Che giudizio deve questa partita? Possiamo dire per noi la partita dai due volti, nel senso che sicuramente il primo tempo non abbiamo avuto un buon impatto con la gara ed è chiaro che se non vai dentro al campo nell'immediato con l'intenzione di voler fare il meglio possibile è chiaro che vengono fuori gli avversari e ti mettono in difficoltà e sono andati in vantaggio, hanno raddoppiato meritatamente perché noi comunque non eravamo quasi scesi in campo, inutile nascondersi e nonostante tutto comunque siamo stati bravi su una ripartenza sul finire del primo tempo a rimetterla, a riaprirla trovando il gol del 2-1 sul finire del primo tempo. Nel secondo tempo penso che abbiamo avuto un'intensità diversa, un atteggiamento diverso creando anche tante palle gol e probabilmente magari meritando anche il pari però non puoi pensare di giocare 45 minuti piuttosto che 90 quindi usciamo sconfitti da questa trasferta contro una buona squadra perché il Mazzara 46 sicuramente è una squadra di categoria ben costruita e quindi niente, dobbiamo pensare soltanto fin da subito a lavorare in vista del prossimo difficile incontro contro il Misilmer in casa. Come ha detto lei il primo tempo eravate quasi assente, cosa avrebbe cambiato oggi in questo momento? Ma guarda, col senno di poi non posso dirti cosa avrei cambiato perché uno pensa di mandare in campo una squadra per provare a fare il meglio possibile non siamo autolesionisti, poi è chiaro che ci sono delle partite dove qualcuno ti dà di più, qualcuno di meno, qualcuno non sta bene qualcuno non è entrato in partita, quello ovviamente te ne accorge a gara in corso e abbiamo provato a cambiare qualcosina e penso che si sia visto nel secondo tempo sotto tanti aspetti. L'arbitraggio come l'ha visto? Ma non sono solito commentare quello che può essere l'arbitraggio di una partita dobbiamo considerare che facciamo fatica noi, abbiamo dei limiti fanno fatica gli arbitri anche in Serie A con gli aiuti che arrivano però nel complesso secondo me ha arbitrato una buona gara e penso anche che non sia stata una gara cattiva quindi tutto sommato non ho nulla da recriminare.